Sicuramente in campagna le cose non stanno andando al meglio, ma credo appunto che in generale la scelta del governo è stata una scelta politica, cioè quella di voler tenere aperte le scuole. Tutti i genitori di bimbi piccoli avevano pianificato sino all'ultimo una ripresa normale delle scuole e quindi io credo che una chiusura per una quindicina di giorni sarebbe stato complessivamente, quindi non solo in campagna ma in tutta Italia, un intervento prudente. Proprio alla luce del fatto che ci aspettiamo una crescita ulteriore dei casi per arrivare al picco probabilmente nell'ultima settimana di gennaio e poi un calo, quindi è un problema che affronteremo. E' chiaro che non c'è solo la scuola perché poi chi dice se non vanno a scuola, poi dove vanno i ragazzi? Vanno quelli più grandicelli magari al centro commerciale o si ritrovano comunque, quindi in situazioni a rischio. Però non c'è solo la scuola, anche il calcio si lamenta, comunque è una grande sfida perché c'è una quota anche di insegnanti malati, quindi una serie di problemi proprio a coprire le aule. Quindi è chiaro che l'elemento che dico è che la DAD non è una cosa terribile, la DAD è un qualcosa che può servire di complemento alla didattica in presenza. E' chiaro che se la si usa in emergenza come si è fatto la prima volta si creano anche difficoltà. Non so, ci sono famiglie che hanno due o tre computer e non hanno problemi a comprarsene magari un quarto, ma ci sono famiglie dove abbiamo visto i bimbi che hanno i ragazzini, insomma, dovuto seguire le lezioni dallo smartphone. Che ovviamente magari in un contesto anche non funzionante, di rete di connessione non adeguata. Quindi questa è un po' una pecca complessiva perché l'occasione della DAD come dello smart working può essere vista come approccio strutturale, anche per tanti altri aspetti.